Musica Aveva da poco festeggiato i 50 anni di attività sportiva ad altissimi livelli, tra box, basket e volley, e gli 80 anni di vita. Oggi ci lascia un grande castrovillarese d'adozione, il professor Franco Avolio, un uomo d'altri tempi, garbato e gentile, un uomo che ha portato lo sport in ogni casa a Castrovillari, ma la sua modestia lo faceva parlare sempre al plurale, i meriti non erano suoi e diceva Questa essenza di sport è vissuta sia nei ragazzi, negli atleti e sia nei dirigenti. Sono loro che ci hanno arricchito di tanta sicurezza, di tanto amore, di tanta passione, perché senza la loro passione noi non potevamo andare avanti. 50 anni di storia sportiva vissuta sempre attorniato dalla sua bellissima famiglia, dalla palestra alla sua seconda casa, che lui definiva la palestra del popolo, la palestra dei ragazzi e delle ragazze che volevano a tutti i costi praticare uno sport diverso dal calcio. Il professor Avolio inizia a praticare la noble art già agli inizi degli anni 60, in una storica palestra cosentina, con il maestro Tavernisi. Dopo essersi diplomato in questa arte grazie agli insegnamenti del grande Steve Klaus, definito il papà del pugilato italiano, fonda nel 1970 la Volio Box e subito dopo la Volio Volley e la Volio Basket. Per 50 anni, con grande amore ed edizione, ha traghettato giovani allievi verso palcoscenici importanti. Non ci sono parole per descrivere il vuoto che ha lasciato in tutti quelli che lo conoscevano. La nostra redazione è vicino con affetto a sua moglie Angela, ai figli Vanesse e Pierpaolo, alla nuora Rosangele, al genero Rocco e ai nipoti Ludovica, Pierfrancesco, Francesco e Alessandro, ai quali aveva trasmesso, come aveva fatto prima con i figli, l'amore per lo sport, l'amore per gli altri, libertà, giustizia, responsabilità di ciascuno di fronte alla realtà in cui vive. Tutto ciò il professore Volio ha cercato di insegnarlo nel pugilato, nella pallavolo e nella pallacanestro, con quella semplicità che lo ha sempre contraddistinto. Con queste parole il sindaco Mimolo Polito lo ricorda Persona schietta quanto amabile per i suoi comportamenti, sempre tesi a guardare le nuove generazioni, come valore aggiunto per ogni crescita che si dica tale. Era contrassegnato da semplicità che non barattava con niente. Certo che le attività sportive di tempo libero non sono il riempitivo ad un vuoto di valori, ma occasione di crescita umana ed espressione di un gusto per la vita che ha trasfuso ai propri figli e quanti lo hanno avuto come docente, sempre attento ed amorevole, anche verso le condizioni più difficili e disagiate. Buon viaggio, professore Volio. Adesso forma la tua nuova società e questa volta falla con gli angeli.